Il vice sindaco di Novivelia, Giovanni Guzzo, verso la nomina vicepresidente della provincia di Salerno a favorirgli la scalata alle 4610 preferenze che si è aggiudicato con il voto dello scorso dicembre quando si è proceduto all'elezione dei nuovi consiglieri provinciali. È stato il primo degli eletti nel PD e il più votato dei partiti di centrosinistra. Un risultato che evidentemente ha messo alle strette il gruppo di maggioranza a partire dal presidente Michele Stianese che probabilmente avrebbe preferito continuare ad avere al suo fianco Carmelo Stanziola. Il sindaco di Centola è stato riconfermato ma non con gli stessi risultati di Guzzo. Il passaggio di consegne non sembra però disturbarlo. Guzzo, dice Stanziola, è stato il più votato ed è giusto che ottenga l'incarico. Ora conclude, aspettiamo di sapere come saranno assegnate le deleghe. La prossima settimana infatti il presidente Stianese dovrebbe procedere alla distribuzione e in quell'occasione dovrebbe ufficializzare anche la nomina di Guzzo a vicepresidente della provincia di Salerno. Un incarico che comunque continuerà a ricoprire un amministratore del Cilento. La giunta sarà nominata successivamente.